iniziamo adesso una nuova rubrica sulla grammatica della pittura stavolta diciamo che sommariamente la tecnica è sempre la stessa cioè andare a 45 gradi come state vedendo il fondo dato su questa tela è dato a 45 gradi ancora non è tutta asciutta quindi vedete le zone magari più matte e alcune più lucide e con lo stesso sistema di come abbiamo disegnato quindi nel caso precedente grammatica del disegno questa grammatica della pittura incominciamo a schizzare delle composizioni con il pennello io vi consiglio di utilizzare colori a olio così prendete direttamente dimestichezza con il metodo pittorico diciamo più utilizzato anche se poi esiste l'acquarello esiste la tempera esiste l'acrilico eccetera eccetera l'olio vi dà la possibilità di ritornare sul cioè si mantiene non essicca subito come l'acrilico quindi vi consente anche di andare a riparare a qualche danno che andate a creare nella tela o a qualche forma magari o a qualche colore dato diversamente da come dovrebbe essere dato quindi potete riuscire a coprirlo con dell'altro colore incominciate sempre a 45 gradi io vi consiglio di fare prima un monocromo e poi soprattutto se siete agli inizi e poi passare sopra del colore se vi sentite pronti potete partire direttamente con del colore non vi preoccupate se non assomiglia all'originale quello che state facendo le prime tele che farete sicuramente saranno saranno degli obbrobri saranno diciamo delle esecuzioni che non vi piaceranno ma è normale perché all'inizio sarà così incominciate a dare del colore io adesso vi faccio vedere un esempio di una composizione che ho realizzato sempre con questa tecnica che vi dico io a 45 gradi e non vi preoccupate se non viene esattamente come l'originale perché all'inizio ripeto è così quindi non vi scoraggiate perché tutti siamo passati da questa strada e tutti abbiamo avuto diciamo questa esperienza non tanto piacevole inizialmente e vi dico un'altra cosa questi primi e diciamo queste prime tele che andate a realizzare non debbono prolungarsi nel tempo cioè non dovete starci un mese per fare una tela dovete cercare di eseguire il lavoro alla prima e nel più breve tempo possibile quindi buttate materia pittorica sulla tela incominciate a schizzare quella che è la vostra composizione con il colore e se volete magari vi aiutate con un disegnino prima abbozzato sulla tela per come avete fatto con il disegno e dopodiché incominciate a buttare colore non vi preoccupate partite dagli scuri andando verso i chiari quindi prima incominciate a fare le parti più in ombra alle parti più scure dopodiché incominciate a dare i chiari a schiarire ci siamo sempre, a scurire viene un pochettino più complicato quindi abituatevi con questa grammatica pittorica che ripeto non ha niente a che vedere con i quadri che poi si faranno in seguito a prendere dimestichezza con il colore serve semplicemente a questo quindi più ne fate e più vi verranno meglio vi garantisco che dopo la decima tela il prodotto finale sarà molto apprezzabile ve ne renderete conto quindi 3-4 giorni non più di tanto lavorandoci qualche ora di mattina e qualche ora di pomeriggio quindi chiudete quanto prima possibile quante più tele possibili se volete risparmiare sul costo delle tele vi prendete come faccio io dei pezzi di legno come vi faccio vedere su cui monto delle tele e passate la vostra l'imprimitura per come vi ho fatto vedere nel video quindi due mani di imprimitura ve le preparate prima ve ne preparate un 5-6 magari sul compensato e pronte da da dipingervi sopra io non ho altro da dirvi se non di darvi l'appuntamento al prossimo filmato dove vi farò vedere le prime esecuzioni quindi in questo frattempo in questa settimana vi preparate le tele o ve le andate a comprare o vi consiglio di utilizzare anche per fare un pochettino di pratica l'imprimitura quindi andatevi a guardare il video sull'imprimitura vi incominciate a preparare le tele e ci vediamo settimana prossima che iniziamo la prima composizione buon lavoro e se vi piace il filmato come al solito vi potete iscrivervi al mio canale youtube alla mia pagina facebook al mio profilo instagram e se vi piace mettete un like e se vi piace il filmato iniziamo a guardare le tele iniziamo a guardare le tele